buongiorno mister sono nove anni che l'eco non vince anzi perde contro la propatria e a busto assizio in particolare ci sarebbe questo piccolo piccola casellina da cancellare insomma sì sì ho letto ho letto mi sono documentato è anche uno dei nostri obiettivi cercare di riportare la vittoria all'eco come abbiamo fatto un po col como cercare di dare una soddisfazione ai nostri tifosi quello è un obiettivo che ci siamo posti in questa settimana sapendo che è una partita comunque difficile sempre un derby e quindi dobbiamo dobbiamo giocarla in maniera un po molto intensa con la consapevolezza di di fare di avere di rimanere sempre con la nostra identità cercando di farlo di farlo non solo il primo tempo o il secondo tempo ma rimanere nella nella nostra identità per 90 minuti tra qualcuno di importante oltre a merdi sala e a galli no credo che andrea malgrado il capitano non si sa ancora perché è uscito dopo una ginocchiata che pesa la schiena quindi stiamo ci stiamo accertando vediamo se se sarà disponibile altri tutti recuperati sedia che c'entra sì quello sì vediamo anche Ernest purro no purro recuperato Ernest che ancora non mister la scorso campionato se non sbaglio il 5 di ottobre tu debuttasti sulla panchina dell'eco proprio contro la propatria trovi una squadra abbastanza simile io credo diciamo chi avversi c'è quel tipo di mentalità gli ha dato quel tipo di gioco gli ha dato e bene o male tanti giocatori o chi ha sostituito i giocatori che sono attivi a tipo Mastroianni bene o male interpretano quel tipo di gara quindi una delle quattro migliori difese del campionato e della propatria diciamo che è un po' una gara simile del sesto San Giovanni o sbaglio? No per caratteristiche dei giocatori potrebbe essere diversa un po' per caratteristiche per i principi di gioco perché sono la propatria fa quel gioco da 5-6 anni quindi non hanno cambiato tantissimo al di là di Nando quindi i giocatori che sono lì conoscono a memoria le direttive dell'allenatore sicuramente troveremo una squadra che sa quello che fa in campo perché lo fa da tanti anni quindi dobbiamo fare una partita attenta aggressiva cercare di non far giocare della propatria cercare di alzare la percentuale del di errore per essere più vicino alla porta quindi sicuramente sarà una partita dovremmo affrontare dovremmo interpretare la partita in maniera aggressiva fin da primi minuti mister ragionerai anche su magari provando a interpretare quello che potrebbe essere il mercato perché mi ricordo un anno fa prima di questo turno di questi ultimi turni ricordo in conferenza esprimessi un concetto io scelgo un gruppo di giocatori e su questi poi magari baseremo anche il calcio mercato che faremo ci allego magari anche le voci su danna che sono uscite in questi giorni o se invece pescherai tra i 23 poi il mercato ci penseremo poi a gennaio no assolutamente rispetto all'anno scorso era è una storia diversa nel senso che comunque l'anno scorso dovevi attingere per forza dovevi cercare di fare più punti possibili per cercare di allontanarti dalla zona calda no e poi dovevi sicuramente perfezionare rafforzare soprattutto su dei giocatori che erano abituati a fare questa categoria quest'anno è leggermente diverso quest'anno dobbiamo fare più punti possibili di quella sosta per cercare di rimanere lì e poi cercare di fare un mercato ma non un mercato emozionale perché sei lì e quindi prendere il nome no dobbiamo fare se è possibile un mercato per cercare di migliorare e fare un ginone di ritorno che ci possa consentire di stare lì per tutto il campionato è migliorare sotto il profilo qualitativo la squadra su certi principi di gioco che voglio attuare ma fare delle scelte già da adesso perché far capire a qualcuno ad esempio che potrebbe essere sul mercato no io ho chiesto alla squadra alla massima disponibilità perché c'è bisogno di tutti e soprattutto perché mancano tre partite da qua alla sosta e noi dobbiamo fare più punti possibili per il bene dell'eco per il bene della piazza della società e cercare di stare lì per poter programmare poi con entusiasmo il mercato buongiorno mister ecco è stata l'eco arriva da una bellissima partita contro la pistola che settimana è stata da questo punto di vista si è notata la differenza no perché comunque dopo la pro sesto prima della pro sesto abbiamo fatto tre vittorie e noi dobbiamo continuare a ad avere questo trend è un trend positivo con la parentesi pro sesto che ripeto avevamo la partita in pugno e poi siamo ritornati a casa con zero punti e comunque è stata una buona partita con la pro sesto difficile sia per loro che per noi però l'unico tiro in porta che abbiamo subito il calcio di rigore abbiamo preso gol e altrimenti erano c'era il bottino pieno nelle cinque partite quindi è stata una settimana come tutte le settimane dove i ragazzi si sono impegnati al massimo voglio ho chiesto ho chiesto e pretendo al dalla squadra di avere di avere quella mentalità dello zero zero per tutta la partita sia se sei vantaggio se svantaggio perché non dobbiamo dare vantaggio agli avversari cioè le uniche volte anche a Renate abbiamo dato noi il vantaggio agli avversari di poter segnare su una palla nostra persa perché i primi venti minuti con Renate erano stati buoni quindi non dare vantaggio agli avversari se sono più bravi vinceranno la partita ma noi dobbiamo rimanere con la stessa mentalità adottando lo stesso gioco lo stesso atteggiamento in fase offensiva in fase difensiva e non cullarci o non deprimerci se siamo in vantaggio se studiamo gol quindi io questo lo pretendo perché nel momento in cui lo facciamo abbiamo sempre rilassiamo ci ci deprimiamo e lì diventa diventa difficile perché poi non mi piace vedere la squadra che si allunga nei reparti io voglio undici che corrono come addannati undici che pressano undici che corrono e undici che si propongono anche in fase offensiva noi ci dobbiamo muovere di blocco non ci dobbiamo muovere nel singolo o sperare nella giocata se facciamo questo lo abbiamo dimostrato ce la possiamo giocare con tutta la grande se non facciamo questo ci creiamo da soli delle apprezzioni che non hanno senso benissimo ecco facciamo il solito giochetto al caprof giudici mastroiani ci sarà un titolare fra questi mastroiani perfetto grazie altre domande oppure lasciamo il mister io una cosa ce l'ho scusami mister stavo guardando le situazioni livorno e novara possono incidere in questo campionato delle difficoltà il livorno molto più profonde però anche novara insomma sta avendo dei problemi abbastanza recenti voi tra l'altro le avete trovate in momenti diversi oggi chiudono questo campionato con non si sa che mentalità è normale che possano incidere parliamo di due piazze importanti storiche per il calcio italiano e incidono incidono e preoccupano preoccupano perché se livorno e novara adesso si sa più quella del livorno e novara sento delle voci ma non sono così fondate o quantomeno così concrete come quelle di lo di livorno però a me personalmente preoccupa preoccupa perché con il fatto del del covid con la programmazione la mi preoccupa perché mi preoccupa per i giocatori e comunque si svincolano qualcuno sicuramente può trovare squadra qualcuno no è un momento un po delicato come dico io sempre ragazzi riteniamoci fortunati ad avere una società che comunque paga tutti i mesi avere una società che comunque ci dà la possibilità di lavorare perché in questo momento è un privilegio e io ringrazio dio per questo che ho la possibilità di lavorare in una società ripeto che deve deve migliorare su certi aspetti come tutte le altre se vogliamo comunque mettere sempre un tassello importante per questa società ma che comunque una società solida vedi piazze storiche come novara come livorno che dai dai per scontato che comunque lì tutto potrebbe andare per il verso giusto e invece non è così quindi io personalmente ringrazio dio di stare all'ecco e di avere la possibilità di di essere pagato come tutti noi di avere una società solida che ci consente anche di mangiare insieme e queste cose non in questo momento storico non sono scontate anzi sono un privilegio e noi dobbiamo fare di tutto per cercare di dare delle soddisfazioni a noi alle tifosi e anche anche alla società perché comunque fa in questo momento storico fa sempre dei sacrifici la società però adesso sicuramente non non si attinge da sponsorizzazioni o da biglietti del pubblico perché comunque il momento è critico eh però sta facendo ulteriori sacrifici per portare avanti questa 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 squadra e non è non vedendo le anche le altre sentendo delle delle voci non è scontato non è scontato quindi prima era la normalità che una squadra una dovesse finire il campionato con pagamento degli stipendi adesso secondo me è un qualcosa di 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 non scontato ecco quindi io sono in questo momento mi sento un privilegiato ecco ecco